In Abruzzo i decessi da Covid-19 sono stati il 3,8% rispetto a quelli totali nel periodo che va dall'inizio dell'epidemia in Italia, 20 febbraio, fino al 31 marzo. 64 sui 1.706 casi totali in questo intervallo di tempo. Lo certifica il report del primo trimestre del 2020 sulla malattia da coronavirus realizzato dall'Istituto Superiore di Sanità e Istat, percentuale che inserisce l'Abruzzo a metà della graduatoria, decimo posto, in questo dato percentuale che va dai massimi di Lombardia, prima, e Vale d'Aosta, seconda, le quali superano il 30%, fino ai minimi di Calabria e Basilicata, che sono sotto l'1%. Il rilievo statistico, sempre per quanto riguarda l'Abruzzo, fa leva sui dati erogati dall'85,6% dei comuni della nostra regione in rappresentanza dell'85,2% dell'intera popolazione, che ricordiamo essere di circa 1.305.000 abitanti, come da dato Istat aggiornato allo scorso novembre. In Abruzzo, nei primi due mesi del 2020, gennaio e febbraio, vi è stata una flessione dei decessi rispetto alla media del quinquennio precedente, 2015-2019, del 2,9%, a fronte di una impennata nel mese di marzo, quando invece c'è stato un aumento dell'8,8%. I 1.706 decessi del periodo 20 febbraio-31 marzo sono in crescita rispetto a quelli mediamente registrati nello stesso intervallo dell'ultimo quinquennio, 1.539, con un aumento dunque di 167 unità, crescita sulla quale il dato delle vittime da Covid al 31 marzo, 64 come detto, incide per il 38%. Va detto che questa analisi è ancora in parte incompleta e sarà più chiara tra diversi mesi. Le vittime da Covid sono quelle persone che hanno perso la vita e a cui il tampone aveva diagnosticato l'infezione, ma non sono computati quei casi di mortalità indiretta, persone con sintomatologia analoga a quella del Covid, ma che non hanno avuto il test, o quei decessi dovuti alla crisi del sistema ospedaliero impegnato nell'emergenza. Un'analisi ancora più nello specifico si è scendendo a livello delle province, che il report divide in tre macrogruppi a seconda della diffusione del virus, fascia alta, media e bassa. Pescara e Teramo finiscono in quella media, una conseguenza probabilmente della densità della provincia pescarese e della proliferazione dei casi in Valfino per il fronte terramano. Mentre Pescara nel primo bimestre ha fatto registrare una flessione dei decessi del 4,5%, a Teramo vi è stato un aumento del 2,2%. A marzo, impennata per entrambe le province, 21% a Pescara e 13,8% a Teramo. Molto diversa l'incidenza dei decessi da Covid su quelli totali, 9,4% per Pescara, tra le più alte del macrogruppo, dove solo 5 province vanno in doppia cifra. Molto bassa a Teramo, 1,3%. Chieti e l'Aquila rientrano nel macrogruppo con bassa diffusione. In particolare a Chieti vi sono stati lievi aumenti della mortalità sia nel primo bimestre, 1,8%, che a marzo, 3,6%. Quella dovuta al Covid ha inciso su quella totale nel periodo dell'epidemia per il 2,7%, dato che si attesta su una trascurabile 0,3% nella provincia aquilana, dove addirittura c'è una flessione marcata dei decessi nell'intero trimestre 2020, meno 13,5% a gennaio e febbraio, meno 5,4% a marzo. Sarà tuttavia interessante rivalutare l'evoluzione della provincia di Chieti nel mese di aprile, alla luce delle criticità emerse nelle ultime settimane. In generale il report conferma come in Abruzzo il virus abbia circolato con discreta forza nella provincia di Pescara, ma la sua trasmissione è stata in linea di massima controllata su tutto il territorio.